Arriva a pochi secondi dalla fine, in piena zona Cesarini, la quarta vittoria consecutiva della Catania di Cristiano Lucarelli. A mettere la firma su un successo tanto insperato alla luce dei 94 minuti giocati, quanto importante in chiave classifica il numero 32 Andrea Mazzarani. Per lui appena 30 minuti in campo prima di battere la punizione insidiosissima dalla sinistra, che spedirà la palla direttamente in rete. E così quello che sembrava un opaco 0-0, destinato a far discutere per l'approccio alla gara troppo arrendevole da parte degli etnei, si è trasformato invece in un trionfo dal sapore sfizioso dell'impresa, che ha reso omaggio all'encomiabile perseveranza dei tifosi rossazzurri arrivati direttamente da Catania. Dall'altra parte l'ira furibonda delle Vespe dell'ex Fabio Caserta, che proprio non hanno digerito la sconfitta, servita quasi a tradimento quando tutto lasciava presagire di aver messo almeno un punto in cassaforte, per il Catania, che vola a quota 31, tre punti pesanti più dei macigni, che a fine stagione potranno decidere le sorti di un intero campionato.